Vangelo del giorno 7 febbraio 2023 Nel Vangelo di oggi c'è un'affermazione di Gesù che deve metterci in discussione deve aiutarci ad esaminare la nostra coscienza ma soprattutto deve portarci ad una domanda Amo davvero il Signore e come lo amo? Gesù però risponde così Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me che potrebbe essere tradotto Questo popolo mi ama a parole ma non con i fatti, non con la vita Vogliamo leggere insieme il Vangelo? Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni scribbi venuti da Gerusalemme avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure cioè non lavate i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani attenendosi alla tradizione degli antichi e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti Quei farisei e scribbi lo interrogarono Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro Bene approfetato Isaia di voi, ipocriti Come sta scritto Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me In vano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini trascurando il comandamento di Dio Voi osservate la tradizione degli uomini E diceva loro Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione Mosè infatti disse Onora tuo padre e tua madre E chi maledice il padre e la madre si è messo a morte Voi invece dice se uno dichiara al padre e alla madre ciò con cui dovrei aiutarti E corban cioè offerta a Dio Non gli consentite di fare più nulla per il padre e la madre Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi E di cose simili ne fate molte Oltre alla frase che vi ho detto poc'anzi Con cui Gesù ci dice che noi lo onoriamo con le parole, con la bocca ma non con la vita, con il cuore C'è un'altra parola terrificante Ci chiama ipocriti Gli ipocriti sono i falsi Coloro che vivono una vita diversa da quella che vogliono far apparire Tutta luce davanti agli altri Tutta buio e tenebre dietro Quando gli altri non ci sono Abili a far passare via il comandamento Che è la cosa importante Che deve regolare le nostre vite E facili nel vivere di tradizioni Di pratiche Che non cambiano la vita E che spesso ci lasciano sterili e vuoti Allora questo Vangelo oggi non è per gli altri Ma nessuna pagina di Vangelo è per gli altri Quando la leggiamo È per noi Verifichiamo la nostra vita Verifichiamo la nostra adesione al Vangelo Verifichiamo la nostra adesione ai comandamenti E soprattutto verifichiamo il nostro amore Come amiamo il Signore A parole O con i fatti O con la vita O con la testimonianza Cosa accettiamo della parola del Signore? Tutto? Qualcosa? Qualche pagina?